A. Senti Maria, che fai stasera? Hai mica voglia di andare al cinema? Certo, è un'ottima idea. B. Stasera alla televisione non c'è proprio niente. Che ne dice di andare a ballare? Purtroppo non posso. Domani mattina mi devo alzare alle sei e mezza. Stasera i miei genitori vanno fuori e sono a casa da sola. Ti va di venire a giocare alla Playstation? Come no? C. Stasera i miei genitori vanno fuori e sono a casa da sola. Ti va di venire a giocare alla Playstation? Come no? B. Ragazzi, noi abbiamo deciso. In agosto andiamo per due settimane in Sicilia. Venite con noi? Grazie per l'invito, ma io prendo le ferie a luglio. E. Sai, Monica, venerdì prossimo è San Valentino. Vuoi che andiamo a cena insieme? Che idea carina, ma purtroppo non posso. Sono già d'accordo per vedere Giovanni. F. Ciao, Piero, sono Young. Senti, sabato sera organizzo una festa per il mio compleanno. Ti aspetto o no? Ma senza altro. G. Signor Parini, io e mia moglie pensiamo di fare una piccola gita questo fine settimana. Perché non venite anche lei e sua moglie? Volentieri ho boccato. H. Domenica, prossimo c'è il matrimonio di Sara e Giacomo. Mi vuoi accompagnare? Mi dispiace, Angela, ma Domenica io ho da fare. I. Chiara, questa volta non accetto scuse. Sabato mattina andiamo a fare spese insieme. Va bene? D'accordo. L. Uffa, oggi non ho proprio voglia di andare a lezione. Andiamo a bere un caffè? Ma non so, meglio un'altra volta. Ma non so, meglio un'altra volta.